Ciò che mi piace dell'indie italiano è il modo in cui suona, le melodie con le quali questi artisti riescono a traghettarti nell'animo umano con semplicità, con testi a volte semplici e anche strani che fanno dei riferimenti al quotidiano, un quotidiano che talvolta è al limite del trash. Altre volte invece raccontano con semplicità determinate emozioni ed è il caso di Gazzelle con questa traccia, lacri ma. Andiamo sul testo perché è molto interessante, sulla canzone ho da dire che ha una base veramente bella, leggera, semplice, che rievoca comunque un mondo chiamiamolo pop, comunque molto musicale e che ha un testo, è una melodia veramente interessante e che raccontano perfettamente situazioni attuali di tanti giovani. Andiamo sul testo. Mi piace molto Una spallata al passato, quindi mi piace molto questo non sai da dove viene. Così come mi piace il ti chiedo scusa, non sapevo bene com'era, mi fa un po' male. Molto Cioè dici tutto dicendo niente. È chiaro il mondo che racconta questa canzone. Ecco, il dici tutto senza dire niente è una cosa che dico spesso. Ho degli intercalari classici e io cerco sempre di rinnovarmi. Però capite che facendo tutte queste recensioni, tutte queste letture, tutti questi approfondimenti, comunque mantengo, devo mantenere un mio stile ma non lo faccio apposta perché io preferisco sempre appunto dire cose nuove. Però esiste un limite alle parole che si possono usare per esprimere determinati concetti. Comunque, guarda che bella giornata, avrei tenuto vicino un po'. I testi sono sempre un po' scusate ma guarda che bella giornata, immagino ti avrei tenuto vicino un po'. Mancano a volte delle parole. Comunque, non potevo capire, respirare, respirami ancora un po' addosso, ti prego, non riesco a mangiare. Anche questo non riesco a mangiare è molto interessante perché al di là del fatto che tutti quanti abbiamo vissuto delle emozioni che ci hanno privato del cibo ma è interessante affrontare il tema che quante volte la generazione passata ha attaccato noi giovani di oggi con le nostre problematiche emotive che rivanno nello stomaco, nell'intestino e ci hanno attaccato di non mangiare, di non nutrirci, ci hanno quasi vessato. Mangia, 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 devi mangiare, sei troppo magro, sei troppo qui, ma stai bene, ma sei sicuro, non stai mangiando niente. E questa è violenza psicologica pura perché una persona che non sta vivendo un problema non ha alcun risentimento verso il cibo, che è un piacere. Quindi se una persona non riesce a concedersi al piacere del cibo, insomma vuol dire che questo è un ulteriore problema che si va ad aggiungere al problema che c'è. E quindi è veramente violento chi ti vuole costringere a nutrirti quando non vuoi, quando non ci riesci e vorresti mangiare, vorresti tornare alla condizione di normalità che poi la normalità oggi è passata un po' fuori moda, siamo tutti alla ricerca dell'emozione forte, giustamente, una vita non basta, non basterà mai Quindi bisogna anche imparare a valorizzare il normale, però ecco, cosa dobbiamo fare Mentre cammini per strada da sola come un'astronave Verissima in mezzo alle stelle Le tue mani sembrano fiumi Che portano al mare Perderti dentro la pioggia Sono già le otto di sera Raccontami cosa volevi Vivere non è poi così male Se ti sai asciugare Ecco, questa strofa anticipa quello che stavo dicendo Cioè no, posticipa Stavo proprio parlando del sapersi asciugare Di quella fase della vita che c'è tra ciò che accade e ciò che dovrà accadere E in cui noi dobbiamo restaurarci Quindi l'indie italiano in modo particolare e questa canzone ne è la prova Sono canzoni che servono alla persona per restaurarsi, per ripartire E quindi di conseguenza io do una recensione molto positiva a questo brano Che non è una pietra migliare dell'indie Sicuramente ce ne sono state tante e tante molto belle, interessanti Che solo se vivi certe emozioni puoi apprezzare Però sicuramente questa canzone ad oggi che esce così dal nulla sorpresa È una prova che l'indie in Italia si può fare, si può fare bene E quindi è comunque un racconto di questo presente Sia nel testo e sia in quello che c'è dietro Non sono mai stato un grande fan di Gazelle Però fa sempre piacere quando qualcuno si racconta nel suo stile E lo fa bene Con sincerità A me sembra molto sincera questa canzone Parte da un sentimento reale Ed è questo che lo rende real Pur non essendo puramente hip hop Visto che il termine real si utilizza per Non si sa cosa Devi essere un delinquente per poter usare la parola real No, real vuol dire che tu canti quello che provi E quindi Gazelle per me è real Perché mi pare canti quello che prova Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita E se sei un utente Prime Ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music Ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music